Mille i dormitori che sono stati chiusi in tre anni di lavoro sicuro. Il progetto che la regione toscana ha messo in campo all'indomani dell'incendio di una fabbrica ha costato la vita a sette operai cinesi per affermare un principio sacrosanto, la sicurezza nei luoghi di lavoro che non possono e non devono essere anche considerati al pari di un'abitazione. Controlli pressanti, fatti di sanzioni, sequestri, chiusure che hanno stimolato un altro fenomeno illegale, quello delle case non solo sovraffollate di letti nei quali spesso si dorme a turno ma anche trasformate in fabbriche dove l'accesso degli spettori non è consentito perché, lo dice la Costituzione, il domicilio è inviolabile. Un processo al contrario insomma. La conferma è arrivata il 26 agosto quando due operai cinesi sono morti in una mansarda di una palazzina latignamica frazione di Vaiano nella quale dormivano accanto a una ventina di taglie e cuci. Una casa fabbrica, uno schiaffo alla legalità e alla sicurezza che oggi a tre anni e mezzo dai morti di via Toscana fa ancora più male, da qui è partito il tavolo per il lavoro sicuro che oggi è tornato a riunirsi in comune per fare il punto sui controlli fatti, su quelli da fare e sulla nuova frontiera da combattere, l'impresa fatta tra normali mura domestiche. Novità diciamo sconvolgente è quella addirittura di insediare un'attività, in questo caso il laboratorio di confezione all'interno di un'abitazione, che è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che per la gravità che rappresenta deve essere oggetto di un'attenzione particolare. Il primo problema è quello della conoscenza, questa conoscenza dovrebbe derivare da una segnalazione. Il secondo problema è cosa fare a valle della segnalazione, perché possono esserci situazioni in cui il titolare, comunque chi è lì, non consente l'ingresso. Assente la procura non convocata oggi, nonostante stia elaborando un protocollo dal quale partire per rendere possibili i controlli anche nelle abitazioni. Bisogna capire fin dove si estende il concetto di domicilio quando viene esercitata un'attività criminosa. Ovviamente sono questioni molto tecniche, su cui è fondamentale l'apporto, il sostegno e il suggerimento che l'indirizzo ci darà la procura.